Vediamo entrare in campo le due squadre e la palla a due che sta per essere alzata La ricezione di Orozova subito per Gianolla, Gianolla dentro molto bene per Marcella Filippi Un rimbalzo controllato da Maroni, corre molto bene, Orozova ai contropini Più 7 fila sul 10 a 3, Walker per Ruditskova, il consegnato che non riesce con Williams Allora torna da Walker che scarica molto bene per Michović che prende il tiro da 3 punti e realizza Williams adesso a impostare l'azione per Venezia, Williams dentro dritto per dritto a subire il fallo Michović e Ruditskova che recupera proprio palla sul primo errore da parte di Marcella Filippi Fino in fondo ad appoggiare al tabellone, consegnato per Michović, Michović l'uno contro uno Il palleggio all'aesto e tiro di Michović con il fallo subito a segnare un canestro dal campo Chiusura raddoppiata nell'angolo, Orozova che trova molto bene Marcella Filippi che scarica fuori per Michović ancora al penetra e scarica di Venezia per Kaceric Che trova molto bene dentro Ashley Walker, Carangelo la palla dentro per Michović Passaggio un po' sbagliato per, intercettato da Sina che prende il palleggio, arresto e tiro De Pretto penetra il palleggio, arresto e tiro da in mezzo all'area, ha fatto molto bene Walker, Walker di nuovo per Carangelo, da lontanissimo che sbaglia il tiro, rimbalzo Controllato ancora da Venezia, più 18, massimo vantaggio della partita Che penetra, scarica la palla, scaricata per Mahoney che prende la tripla dall'angolo E finalmente si sblocca Megan Mahoney Kiss per Mahoney, dentro per Bailey, fuori per Giannola che prende il palleggio, arresto e tiro E realizza altri due punti Già dall'altra parte con Mahoney in guardia Mahoney, il picarole in transizione, prende il tiro da tre punti, Megan Mahoney Dentro di nuovo per Bestagno, sempre il raddoppio della difesa quando la palla arriva in post basso Lo scarico fatto molto bene per il taglio di Rudziccovac Il picarola alto di Kiss Kiss, uno contro uno di Mahoney che prende il palleggio, arresto e tira E realizza 11 punti in questo terzo e quarto Tonello l'uno contro uno, il consegnato con Giannola Palla fuori per l'uno contro uno di Kiss che appoggia il tabellone, il meno 4 La palla viene controllata da Mahoney, che è già dall'altra parte, picarole in transizione Il tiro da tre punti di Mahoney Bailey che gioca l'uno contro uno contro Williams Lo step back, torna la palla fuori per Orozava che prende il tiro da due punti Di nuovo in punta per Filippi che riscarica per Mahoney Il reverso di Mahoney che dà il pareggio al fila Ridà nelle mani di Williams Williams che perde la palla banalmente Nelle mani di Bailey che dà per Mahoney che va fino in fondo Sbaglia il tiro, controlla il rimbazzo offensivo Filippi Mahoney, l'uno contro uno Le finte di Mahoney, il palleggio, arresto e tiro di Mahoney Incandescente in questi ultimi due quarti Mega Mahoney, l'uno contro uno di Carangelo Cerca la palla per Miciovic che prende il palleggio, arresto e tiro Palla dentro per Walker che realizza 58 Reier, 57 fila Il blocco portato da Orozava, l'uno contro uno di Bailey Lo scarico per Orozava che va dentro fino in fondo 43 secondi e impostare l'azione La palla per Mahoney Mahoney che vuole giocarsi l'uno contro uno Arriva ora il blocco di Orozava La palla dentro per Filippi Torna fuori la palla per Mahoney 3 secondi, 2 secondi Mahoney da 3 punti La tripla di Mega Mahoney 63 fila 59 Venezia E si chiude così a San Martino La gran rimonta del San Martino di Luperi Che vince il derby contro la capolista